Con la esternalizzazione dei servizi, la politica regionale ha favorito la nascita di una nuova classe di lavoratori poveri. È la sanità della vergogna, quella che denuncia la OSB di Lanciano in conferenza stampa. In particolare, l'ASL provinciale di Chieti denuncia il segretario dell'Unione Sindacale di Base, Luigi Yashi, ha avviato le esternalizzazioni dei servizi per risparmiare denaro pubblico, ma ad oggi, come dimostrano le ultime deliberazioni della ASL, si continua a drenare risorse pubbliche verso aziende private. Rosa, esternal Renzetti, denuncia che il trasporto dei carrelli per 12 reparti era svolto inizialmente da più addetti, adesso invece sono rimasti in tre. La OSB annuncia lo sciopero per il prossimo 10 novembre. Le buste paga per operatori sociosanitari e ausiliari ospedalieri vanno da 400 a 600 euro mensili e in tanti casi i lavoratori hanno contratti da 11 a 14 ore settimanali. Ci sono lavoratori coinvolti appunto nel apparto per la mensa e per il trasporto dei vitti alle reparti e anche nelle pulizie che hanno dei contratti da 11 a 14 ore settimanali. Voi vi rendete conto che avere un contratto da 11 a 14 ore settimanali significa mettere il lavoratore nella condizione di totale ricattabilità e soprattutto di povertà. Dopodiché ci sono dei malfunzionamenti importanti che tra l'altro vanno a tradire proprio quelle che sono le regole del capitolato che ha dato possibilità a queste aziende diciamo così di vincere l'apparto. Il capitolato è fondamentalmente il regolamento che le aziende devono rispettare e che viene emanato dall'AS. Ci sono dei presidi ospedalieri senza lavasciuga e senza lavastoviglie, Gissi e Ortona e all'interno di questi presidi negabilmente il servizio di pulizia delle stoviglie o dei pavimenti non è allo stesso livello di altri ospedali e questo rischia di mettere al rischio la salute stessa dei pazienti. Altro elemento fondamentale è Lanciano. A Lanciano viene utilizzato costantemente un sottopassaggio dove viene vietato agli operatori non autorizzati di poter passare ma invece è costantemente utilizzato per le normali manzioni quotidiane che vengono effettuate all'interno dell'ospedale. Grazie. Grazie.